Fratellino, non so cosa ti piace, così ne ho portati tre. Scegli pure. Quello che vuoi tu. Ok. Che stai facendo? Zombie Boy. Chi è Zombie Boy? Io. Qualcuno ti ha chiamato così? Sì. Ehi, puoi parlare con me, lo sai, è vero? Qualunque cosa accada. Will, andiamo, parlami! Smettila di trattarmi così! E così come? Come fanno tutti, come se qualcosa non andasse in me! Ma di cosa stai parlando? La mamma, Dustin, Lucas, tutti quanti! Mi trattano come se stessi per rompermi! Come se fossi un bambino e non sapessi affrontare le cose! Così non mi aiutate? Mi fate solo sentire ancora più strano! Tu non sei strano! Sì. E come? E come? Sai una cosa? Hai ragione. Sì. Sei strano. Cosa? No, sul serio, sei strano. Perché vuoi essere normale? Essere come tutti gli altri? Essere strani è meglio, anche io lo sono. Ed è per questo che non hai amici? Io ho amici, Will. Allora perché stai sempre con me? Perché tu sei il mio miglior amico. Va bene. Preferisco essere amico di Zombie Boy che di una banale nullità. Mi capisci? Ok, tu di chi preferiresti essere amico? Di Kenny Rogers o di Bowie? Ah! Esatto, non c'è paragone. Il fatto è che le persone normali non fanno niente di importante a questo mondo. Non credi? Beh, ci sono persone come Kenny Rogers. Kenny Rogers? Adoro Kenny Rogers. Che c'è da ridere? Niente. Mr. Mama! Perfetto!